Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Questa settimana abbiamo un po' di informazioni da dare e partiamo con la prima, che riguarda l'accesso al comune delle persone disabili, è un problema che ci è stato segnalato da più persone, proprio quello dell'accesso attraverso il ponte che le persone che utilizzano la carrozzina non possono, che fanno fatica a utilizzare proprio per la questione del selciato che è posto sul ponte di ingresso al castello. Come risolviamo questa problematica? Chi deve accedere al castello e da una persona disabile non deve fare nient'altro di contattare il centralino del comune, dire di essere una persona disabile che ha bisogno di accedere al comune, questo quando arriverà con la macchina, verrà aperto a lui il cancello diretto del comune, potrà entrare nel cortile del castello con la propria auto e rivolgersi al front office. Nel front office ci sarà la possibilità di svolgere qualsiasi funzione, c'è bisogno che questa persona, che l'utente ha bisogno, anche quello di incontrare gli amministratori nel caso avesse bisogno. Quindi molto importante, se c'è bisogno di utilizzare il comune da parte delle persone disabili, contattare il centralino e informarsi per entrare all'interno del castello. È stato pubblicato sull'alba operatorio del comune e lo troverete sia nelle bacheche comunali come nei tabelloni luminosi, l'avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante al vigente piano del governo del territorio, il PGT, unitamente alla valutazione ambientale strategica. Il PGT è quello che fino a qualche anno fa era il piano regolatore comunale. Perché viene pubblicato questo? Perché entro il 27 marzo 2024, chiunque ha interesse, anche a rappresentazione e a tutela di interessi diffusi in relazione al tema della variante in oggetto, può presentare suggerimenti e proposte, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità. Consegna diretta all'ufficio protocollo, tramite posta all'indirizzo comune di Fagnano Lona a Piazza Cavour numero 9 col CAP 21054 o tramite email all'indirizzo di posta elettronica PEC protocollo.fagnanolona.legalmail.it. Ho letto quello che è presente sugli avvisi che sono stati pubblicati. Quindi è partito l'avvio del procedimento proprio per la variante al piano di governo del territorio e queste sono le cose da segnalare in questo momento. Segnalo che è cambiato il numero di telefono del comando di polizia locale. Il nuovo numero di telefono è 0331 616 521. Questo è il primo cambiamento perché poi, come ho già detto, in questo mese ci sarà il trasloco dell'intero comando nei locali di via Sereni. È inattivo poi da questa settimana il nuovo sito internet istituzionale del comune, finanziato interamente con i fondi del PNRR. Ora volevo illustrarvi velocemente come funziona il nuovo sito istituzionale e farvi capire come prendere appuntamento per la carta d'identità attraverso il sito internet. Come funziona il sito istituzionale del comune? Questa è la pagina iniziale, la home page del sito. Qui trovate il collegamento diretto alla pagina Facebook del comune di Fagnano e alla pagina YouTube. Sulla pagina YouTube trovate sia tutti i video del sindaco, quelli venerdì, che le dirette e i video dei consigli comunali. Vi faccio vedere velocemente la parte amministrazione dove trovate proprio tutte le aree amministrative, i documenti, gli organi di governo, quindi sindaco, giunta, consiglieri comunali e gli uffici. Qui trovate tutti i numeri di telefono e le mail del comune. Andando invece qui sulla home page vedete le notizie che vengono riportate in evidenza, quindi la riunione della Commissione di Affari Istituzionali che si è svolta ieri sera, lo sciopero generale previsto, il calendario degli eventi, qui sotto sempre le news, i siti tematici, quindi tutte le parti legate al comune di Fagnano Lona e la novità di questo sito sono le allerte di protezione civile, che è una parte del sito collegata direttamente con Regione Lombardia e la protezione civile nazionale. Come faccio a prenotare un appuntamento per prendere la carta di identità in comune, la cosa più semplice, vado su cerca e scrivo Anagrafe, a quel punto cliccando avvio mi viene fuori subito C e carta di identità elettronica, per accedere al servizio di prenotazione dell'ufficio Anagrafe per la carta di identità non c'è neanche bisogno dello SPID che viene richiesto invece per altri tipi di servizi, quindi per altri tipi di servizi c'è bisogno dello SPID oppure della carta di identità elettronica, si fa così, si clicca su carta di identità elettronica a chi è rivolto, si scende e si arriva proprio a prenota appuntamento, prenota appuntamento clicco, segna l'opzione ufficio demografici, clicco su palazzo comunale e vado avanti, qui mi chiede i dettagli perché, devo fare un rinnovo della carta di identità e vado avanti, a questo punto dobbiamo scegliere la data, cliccando sul calendario e attendendo un attimo, qui verranno fuori le varie possibilità dove posso scegliere per fare la carta di identità, prendo la prima, giovedì 21 marzo ore 15 e 40 ore 16, clicco e vado avanti, qui inserisco tutti i dati del richiedente, quindi il codice fiscale, il nome, cognome, la mail e il telefono, proseguendo si arriva a prendere l'appuntamento e quindi alla conferma dell'appuntamento stesso. Vi ricordo inoltre che si può mandare e ricevere risposte direttamente su questo video, facendo il Sindaco risponde, quindi mandando una mail direttamente a sindacocchiocciolacomune.fagnanolona.va.it Non abbiamo eventi da annunciare in questo video e non mi resta altro da aggiungere, quindi vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova, speriamo anche un po' meno piovoso e al prossimo venerdì. Buona giornata a tutti!